Csv Napoli porta in piazza a Cardito la solidarietà. Grazie al patrocinio del comune tornano le officine del volontariato. Una serie di eventi, attività ludiche, di sensibilizzazione e diversi spettacoli. La comunità carditese ha partecipato numerosa all'attività e agli eventi come lo sport per tutti a cura dell'associazione Nuova Solidarietà Cardito. Le attività di animazione per ragazzi, il gioco e l'arte circense a cura del tappeto di Iqbal. Una tombola solidale animata, musica e danza. A concludere la serata il concerto di coro gospel Living World Gospel Project. Ai nostri microfoni il sindaco del comune di Cardito, Giuseppe Cirillo. Una giornata importante per tutta la nostra comunità carditese. Ringrazio il CSV che ha scelto come sede Cardito per questa manifestazione, le officine del volontariato. È un chiaro segnale importante che stiamo dando alla nostra comunità. Come sindaco posso ringraziare veramente con cuore il CSV perché è sempre presente per la comunità. È veramente un servizio che loro danno e quindi un sindaco questo aspira per trovare società, trovare persone che vogliono dare questo contributo. E quindi noi siamo sempre ospitali. Anzi, spero che questa sia la prima di tante altre volte che il CSV possa venire sul nostro territorio. In piazza per la solidarietà, al fianco del CSV, anche Don Fabio Ruggero, parroco della Chiesa San Giuseppe e San Teofemia di Cardito. Oggi è davvero un'occasione per tutto il territorio ancora una volta di riflettere, di mettersi in gioco e di capire la vera essenzialità oggi, il vero bene, chi è e dov'è. La riflessione di oggi sarà proprio sulla povertà o meglio, amo dire, i poveri. Perché esistono i poveri, esistono delle storie, esistono delle vite che hanno bisogno oggi di essere ascoltati, che hanno bisogno oggi di amici al loro fianco.